Giovedì 20 giugno, buongiorno a tutte e buongiorno a tutti, Good Morning Milano, oggi il 20 giugno, ultimo giorno di primavera, di solito si festeggia il primo giorno d'estate invece oggi voglio ricordarvi che è l'ultimo giorno di primavera e per la fine di qualcosa inizia qualcos'altro come ad esempio questa puntata di Good Morning Milano qui alle 7.08 in diretta con voi come sempre per raccontarvi un po' tutto quello che succede in città, tutto quello che avviene nella nostra grande metropoli oggi siamo in studio, ieri siamo stati in esterna, l'avete saputo no? Se avete seguito, ieri mattina eravamo davanti all'istituto alberghiero Carlo Porta, abbiamo sentito i ragazzi e le ragazze che stavano per approcciarsi alla prima prova di esame della maturità 2024 quest'oggi vediamo magari se ci danno qualche aggiornamento su come è andata, su come si è svolta, insomma cercheremo di raccontarvi un po' tutta la mattina questo non solo ma oggi è la giornata anche della seconda prova della maturità e quindi siamo comunque qua anche con altri giornali davanti per leggervi poi tutte le altre notizie che ci sono state e magari anche quello che ci sarà, poi avremo i nostri ospiti, parleremo anche di teatro con Tamara Maleo, insomma giornata bella piena così da darvi la giusta carica per partire oggi è il 20 giugno, il 20 giugno del 1949 nasceva Lionel Richie, una delle due firme del We Are The World, ma anche e soprattutto un grandissimo cantante che festeggia appunto 75 anni oggi e quindi tanti auguri a Lionel Richie Tanti auguri a Lionel Richie, say you, say me, 1985, lui invece nasce nel 49 e oggi festeggia 75 anni, tanti tanti auguri Lionel Leggiamo dal giornale Repubblica Milano, cosa dice? Identificato e denunciato il climber minorenne che ha scalato il Duomo per fare un selfie con la Madonnina le indagini condotte dalla polizia locale e soprattutto sui social hanno consentito di individuare il ragazzo già in passato protagonista di imprese dello stesso genere sì, dopodiché, bravi i vigili, nel senso bravi la polizia locale, il giornale ha anche meno enfasi sulle indagini condotte questo si è messo una foto con la sua faccia sul suo profilo Instagram, basta fare due chiamate alla postale ma poi lo sapevano tutti chi è, nel senso che lo sapevano già anche la polizia locale appena l'hanno visto ci ha messo un mese per modificargli o per far capire bene che guarda che sappiamo chi sei però, ricordiamo, la notte del 21 maggio, il ragazzo di cui ovviamente adesso, la cosa divertente qual è? uno, adesso non ci sono più le foto con la faccia, prima c'erano, adesso no perché è minorenne quindi le abbiamo coperte due, prima si metteva il nome del profilo Instagram, adesso non si mette più neanche il nome e cognome perché è minorenne queste sono le buffonate, posso dire, ridicole delle leggi che abbiamo intorno al giornalismo e minori che fanno delle cose che non hanno senso ma in realtà proprio in tutto, perché io mi ricordo sempre ad esempio che non c'entra nulla col giornalismo ma quando ad X Factor o a The Voice o a Varum minorenne che non può esibirsi dopo mezzanotte che è una di quelle boiate micidiali che non hanno senso nel senso che allora o li fai iscrivere e a quel punto se si iscrivono sono uguali a tutti gli altri concorrenti o non farli iscrivere anche qui ormai questa foto è in giro, abbiamo parlato di tutto, non sapevamo fosse minorenne forse quindi bisognerebbe magari pensarci un po' prima dire ma siamo sicuri che questo è maggiorenne? perché finché non sappiamo che minorenne gli possiamo fare di tutto foto in giro, nomi e cognomi come si dice, mettere anche, no nomi e cognomi no, però mettere i profili Instagram e tutto poi si scopre che minorenne è tutto coperto ma dai, nel senso non ha senso, non ha serietà soprattutto comunque lui il 21 maggio ha fatto questa impresa di salire sulla Madonnina e farsi il selfie davanti alla Madonnina ricordiamo poi che c'è legato anche forse il suo marchio di maglietti c'è dietro anche qualcosa di commerciale che non è piaciuto tanto a molti oltre al fatto di andare in un posto dove non ci può andare ma il 17 marzo era già successo perché si era arrampicato lungo i masti del Castello Sforzesco ed era riuscito a raggiungere la Torre del Filarete per scattare fotografie a 40 metri da terra e anche in questo caso penzolando nel vuoto il giovane Kainberg dovrà rispondere dei reati di invasione di edifici e danneggiamento che a questo giorno mettono sempre comunque 3317853555 il nostro numero di Whatsapp grazie del messaggio che stanno arrivando grazie ad Alberto ci mando un bel messaggione che adesso vi vado a leggere che dice buongiorno Fabio, buongiorno Elisa, buongiorno Cristallini ecco vedi ormai anche Elisa è finalmente dentro nel gruppo bene 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 e ci ricorda che io dicevo prima oggi è l'ultimo giorno di primavera domani inizierà l'estate e tecnicamente il sostizio d'estate quest'anno cade questa sera quindi sono le ultime ore di primavera queste neanche l'ultimo giorno, le ultime ore di primavera una buona estate a tutti anche a te Alberto poi ci dice gran bella puntata quella di ieri dedicata ai maturandi grazie Alberto ci siamo divertiti tantissimo stare lì con i ragazzi e le ragazze del Carlo Porta e in bocca al lupo anche per oggi con la prova specifica dedicata al proprio indirizzo di studi sì oggi è quel giorno quello famoso di Masieri con la cheesecake continuo a dirlo ieri ho dovuto anche mandargli un messaggio dicendo guarda che parlo male di te Lorenzo ma ti voglio bene comunque quindi lo dico anche pubblicamente qui in diretta comunque andiamo un attimino a sentirci il traffico perché a quest'ora lo sapete c'è il traffico c'è luce verde c'è il traffico e dobbiamo andare a capire come è andata la mattinata o meglio come andrà la mattinata dal punto di vista del traffico va bene? allora andiamo a sentire luce verde e questo era luce verde il traffico come vi sentite si sta intensificando sulla nostra città mi raccomando appunto prima di mettervi in viaggio prima di uscire di casa magari date un'occhiata appunto a luce verde che vi dà ragionamenti del traffico in tempo reale su Semper c'è anche il sito ve lo dà proprio in tempo reale tutti i minuti tutte le strade il lavoro in corso insomma potete sapere tutto quello che c'è da sapere per affrontare al meglio la mattinata mattinata che poi ho proprio vedere delle situazioni di emergenza come ad esempio è successo ieri intorno a mezzogiorno quando un tram della linea 15 ha deragliato in via Mazzini abbattendo un palo e urtando un taxi leggiamo da Corriere della Sera Milano l'incidente è avvenuto intorno alle 12 non ci sono stati feriti il deragliamento forse causato da un oggetto in strada il cartello stradale è sdraiato a terra sopra c'è il tram della linea 15 deragliato schiacciato il palo mentre con una parte dei vagoni invade l'isoletta sparti traffico e una parte del marciapiede in via Mazzini a due passi dal Duomo di Milano l'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno secondo le prime di ieri appunto dicevamo secondo le prime informazioni sembra che a far uscire il tram dai binari sia stato un oggetto in strada a quel punto il mezzo è deragliato urtando un taxi che si trovava proprio lì di fianco non ci sono state conseguenze per passeggeri autista TM e tassista per fortuna sul posto arrivata la polizia locale per i primi rilievi disagio ovviamente sulla linea il tram 15 a quel punto ha fatto capolinea in piazza Fontana e non ha fatto tutte le fermate che ci sono tra Missori e Piazza Edogana quindi il tram 15 non ferma neanche in Duomo ed a Missori ha dovuto cambiare tutto il tragitto insomma queste sono situazioni che possono nascere appunto all'interno della città sono sempre comunque dei bei bestioni che si muovono insomma devo dire ne succedono pochi per fortuna non è una cosa che succede molto spesso può succedere per fortuna è andata tutto bene anzi io continuo a dire che i tram sono fondamentali per la nostra città vero è che in quella situazione in quel pezzo di città in via Mazzini così è molto stretto i passaggi questi tram sono veramente grossi bisogna per forza pensare di ridurre ancora di più l'altro traffico l'altro non quello del tram ok cioè il tram vanno benissimo sono anche immensi lunghissimi se ci sono solo loro possono fare quello che vogliono quindi insomma pedoni e tram possono tranquillamente vivere insieme tanto il pedone lo vede il tram e tutto il problema sono quando ci sono gli altri mezzi soprattutto in situazioni in cui c'è il pavere le vicine binarie ad esempio sappiamo quanto è pericoloso anche le biciclette e anche i motorini insomma non è facilissimo muoversi in quelle situazioni bisogna stare molto attenti quindi ben vengono i tram che hanno sempre le costorie preferenziali loro o le strade dedicate solo ad esse adesso la situazione è tornata a posto nel senso finalmente tutto sembra essere ritornato a posto magari adesso poi facciamo un giro sul sito ATM per vedere se ci sono qualche cosa che ancora è da rivedere ad esempio solo il tram 19 al momento da qualche giorno per tre settimane circa quindi dal 18 giugno per tre settimane circa quindi un paio di giorni già che vede il suo percorso modificato perché non fa servizio il tram 19 tra piazza Firenze e piazza Castelli perché c'è un programma un cantiere stradale in piazza Prealpi quindi percorsi e alternative li trovate sul sito ATM quindi tram 19 anche esso appunto ieri il 15 oggi il 19 per qualche settimana verrà fermato in un tratto appunto quindi fatevi un giro sul sito ATM o sull'app per avere tutte le informazioni che servono per muoverci al meglio all'interno della nostra città così che possiamo andare dove vogliamo tranquilli sereni e senza problemi andiamo con un po' di musica Calcutta con Controtempo alle 7.34 minuti di oggi giovedì 20 giugno a poche ore dal sostizio d'estate lo scopo che quindi è questa sera sostizio d'estate non è domani proprio questa notte sarà cioè questa sera ci sarà e quindi festeggeremo l'arrivo dell'estate proprio oggi 20 giugno non il 21 non c'è più neanche non c'è più le belle stagioni ma anche le stagioni giuste ci sono ma invece le sicurezze ci sono il giovedì si parla di teatro ma oggi è tutto fuori orario quindi abbiamo scambiato comunque anche noi un po' gli orari perché Tamara Malleo è qui con noi alle 7.30 del mattino buongiorno Tamara buongiorno Fabio buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici di Crystal Radio di Good Morning Milano ti abbiamo svegliato presto oggi chiedo scusa non c'è problema va benissimo anzi la sveglia io pensavo di trovare un po' di fresco invece ho aperto la finestra caldo torrido cambia niente però va benissimo ci lamentavamo qualche settimana fa della pioggia adesso non possiamo così anche se questi sbalzi non sono proprio sintomo di un equilibrio diciamo così del clima però detto questo e detto questo ci riportiamo a grandi temi proprio grazie al teatro perché anzi devo dirti che ho voluto proporti anzi proporvi a te e agli ascoltatori e agli ascoltatrici due spettacoli e un film perché il film si torna diciamo così comunque ad una storia teatrale allora partiamo subito con il teatro dei Focuccini che in questa fase diciamo così estiva e molto propone tantissimi spettacoli in questo caso propone un ritorno perché è uno spettacolo che ha debuttato dieci anni fa ed è uno spettacolo rappresentativo della compagnia Eco di Fondo teatro dei Focuccini che si trova in Corso Buenos Aires fermata della metropolitana Lima o Porta Venezia comunque raggiungibile facilmente Corso Buenos Aires se i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici lo sapranno sicuramente compagnia Eco di Fondo legata al teatro Elfo Puccini dà ormai una solida collaborazione e appunto per festeggiare dieci anni di Orfeo Euridice il loro spettacolo che li ha in qualche modo portati all'attenzione degli spettatori e delle spettatrici in questo caso appunto tornano con Orfeo Euridice ci sono Giacomo Ferraù e Giulia Viana che sono le due anime di Eco di Fondo e Orfeo Euridice loro partono quasi sempre nei loro spettacoli dal mito per poi arrivare a un fatto di cronaca che viene poi attraversato dagli strumenti del teatro e quindi in qualche modo portato ad una universalizzazione del tema in questo caso si parte dal mito di Orfeo Euridice per arrivare al tema del fine vita e al tema di fine vita legato al caso di Elia Manglaro e quindi a tutto delle domande che sono domande dolorosissime domande molto complesse su cosa significa rapportarsi con una persona che appunto è in una situazione molto complessa si sveglierà un giorno e se se la si lascia andare significa ucciderla o se lasciano andare significa invece ridarle la sua dignità di vita e a questo spettacolo chiaramente non pone delle risposte a queste tantissime domande ma chiaramente fa un percorso emotivo all'interno di una riflessione e infatti la compagnia in questa settimana ha portato anche degli incontri per esempio con l'associazione di Luca coscioni insomma con delle associazioni che parlano del tema di fine vita e che quindi si relazionano con un tema molto complesso ma che appunto daico di fondo viene trattato uno con grande attenzione con grande cura ma anche con un grande interesse nel confronto di un approfondimento per portarci ad avere degli strumenti per poter riflettere su questi temi così complessi quindi Orfeo ridice fino a domani al teatro del Fopuccini poi ci spostiamo dove andiamo per una rassegna che è voluta dalla compagnia Atir che come sappiamo in questo momento non ha ancora non ha avuto per un certo periodo un teatro di riferimento questo momento questo momento dura da troppo tempo possiamo dirlo esatto adesso sembra che ci sia insomma un movimento nella direzione del restauro del teatro e quindi poi di una riconsegna alla compagnia Atir però ancora insomma il percorso è ancora molto lungo ma Atir appunto non si ferma e torna la rassegna alla prima stella della sera in questo caso punta l'attenzione sull'informazione siamo alla quinta edizione dal 25 giugno al 30 giugno ci sarà questa rassegna teatrale nel cortile della chiesa di Santa Maria La Fonte nel parco di Chiesa Rossa quindi stiamo parlando della zona di Gratosoglio e saranno appunto ospitati nel cortile della chiesa di Santa Maria della Fonte dai frati minori Cappuccini ci saranno tutta una serie di spettacoli legati nella fase precedente diciamo così allo spettacolo a una presentazione da parte di giornalisti che parleranno di temi legati all'informazione ci sono appunto cinque spettacoli molto diversi fra loro io vi segnalo soltanto quello di mercoledì 26 giugno con l'apertura affidata a Benedetta Tubaggi e lo spettacolo Il ballerino e l'ideale di Simone Faloppa che è un attore autore molto accurato perché fa delle ricerche storiche molto accurate per poi portare in scena dei temi molto particolari e soprattutto spesso dimenticati in questo caso si parla del 12 dicembre 1969 quindi della Piazza Fontana sì della Storzio di Piazza Fontana e si parla di chi è stato coinvolto in questo attentato cioè cinque ragazzi anarchici ritenuti senza processo in assenza di prove colpevoli perfetti per questa strage quindi non seguendo un'indagine ma dando già diciamo così per scontato l'accusa a questi cinque giovani e lui fa questo percorso all'interno di queste vite e come sempre succede le piccole vite si inseriscono all'interno di una grande storia chiaramente ci sono anche molti altri spettacoli all'interno di questa rassegna si raccomanda l'acquisto del biglietto su internet perché sarà poi più facile la modalità ma diciamo così alla fine di molti di questi spettacoli ci saranno degli incontri con una risottata con un incontro per far vedere appunto la zona quindi una piccola visita guidata quindi c'è sempre cosa che Atir a cui Atir tiene moltissimo la valorizzazione del territorio in cui si svolge questa rassegna che è il territorio dove loro da sempre lavorano e continuano a lavorare anche attraverso dei laboratori e quindi continuano a diciamo così ad essere un presidio sociale e culturale del territorio di gratis anche se non hanno appunto al momento una sede fissa quindi questo dal 25 al 30 giugno la prossima settimana con tutta una serie di spettacoli potete trovare tutte le informazioni sul sito di Atir come terzo consiglio invece vi dico di andare al cinema infatti usciamo dal teatro in questo momento è attiva la festa del cinema quindi ci sono moltissimi spettacoli a 3 ore e 50 e moltissimi film italiani in questo caso vi consiglio un film dall'alto di una fredda torre che è uno spettacolo teatrale diciamo così si parte da uno spettacolo teatrale che qualche anno fa è stato messo in scena da appunto Francesco Frangipane con un testo di Filippo Gili che sono esattamente il regista e l'autore anche del film e in scena in questo caso ci sono Edoardo Pesce Vanessa Scalera che era già presente nella parte nell'edizione diciamo così teatrale Giorgio Colangeli e Anna Bonaiuto quindi tutti attori di attrici di impronta teatrale ed è anche questo un tema in qualche modo che si ricongiunge a quello di cui abbiamo già parlato cioè una famiglia il film così come lo spettacolo si apre su una famiglia seduta a tavola in cui ci si chiede ma se in questo momento entrasse qualcuno e ti puntasse una pistola alla tempia rivolgere la figlia rivolgendosi la madre chi sceglieresti tra noi due figli e proprio questo interrogativo si ribalterà perché sarà la figlia poi a dover scegliere per una serie di situazioni che coinvolgeranno la salute dei genitori chi poter scegliere per un trapianto tra il padre e la madre è una scelta che si può fare è una scelta che ci porta dove? in una nebbia cognitiva che viene rappresentata benissimo attraverso ecco diciamo la differenza tra il teatro e il cinema è che il cinema aggiunge visivamente molte situazioni quindi ci sono proprio diciamo così delle narrazioni teatrali che vengono visualizzate attraverso il cinema ma rimane un protagonista fondamentale che io già a livello teatrale avevo amato moltissimo cioè il silenzio perché all'interno di una riflessione così complessa come una scelta quasi impossibile da fare anzi direi impossibile da fare il silenzio parla tantissimo perché ci porta in un inconscio che fa che porta a galla delle diciamo così anche dei traumi o comunque degli strascichi legati a delle riflessioni che possono portarci quasi alla follia e quindi io ve lo ve lo consiglio caldamente lo spettacolo era bellissimo ma anche il film diciamo così regge un impianto teatrale che rimane sicuramente molto forte ma che sia diciamo così che aggiunge alcuni elementi prettamente cinematografici ricordiamo bene il titolo quindi dall'alto di una fredda torre ok in proiezione dove allora in questo momento allora sicuramente sapevo che l'avevi fatti no sicuramente è all'anteo ok io l'ho visto all'anteo quindi sicuramente all'anteo non ti dico già che non è al Colosseo non è in programmazione nei grossi quindi al Sarga al diciamo nell'Alecento Uc non so date un occhio al Palestrina magari ecco ecco sì diciamo così centrale in questo momento non c'è diciamo che non ha una distribuzione molto quindi affrettatevi anche affrettatevi perché non ho detto che rimanga troppo esatto ultimissimo ce l'ho il tempo vai sì sì ok allora volevo visto che l'altra volta mi hai detto che libro hai sul comodino sì questa settimana il libro del comodino l'età fragile di Donatella di Pietrantonio che è veramente a parte che lei è una scrittrice bravissima che riesce ad entrare dentro le dinamiche emotive delle donne soprattutto in maniera molto complessa ed è una cosa che a me piace moltissimo in questo caso l'età fragile è un bellissimo viaggio nel rapporto tra madre e figlia e tra non soltanto madre e figlia ma anche tra due generazioni di donne tra un mondo che in qualche modo è quello dell'età giovanile che ci porta a sognare e a credere che il futuro possa essere in qualche modo conquistato in ogni modo ma questo a volte non accade quindi delle speranze frantumate e dall'altra parte c'è anche una comunità legata ad un ad un luogo più bucolico più disperso quindi non la grande città ma il piccolo centro che in qualche modo dalle giovani generazioni viene rifiutato ma che diciamo così generazioni un po' più adulte si riportano a questi luoghi perché in questi luoghi ci sono le loro radici e quelle radici che volevamo tagliare quando eravamo molto giovani invece ritornano prepotentemente poi in un'età più adulta e l'età fragile è l'età più giovane è un'età in cui si pensa di essere anzi non solo si pensa di essere invincibile ma anche gli adulti pensano che i giovani siano invincibili in realtà ci sono delle fragilità così forti e così radicate che quando esplodono tutti sono impreparati sia chi vive queste fragilità che chi è accanto a chi le vive e quindi c'è tutta una narrazione di come si possa o si cerchi di dialogare all'interno di queste fragilità che rompono un mondo che sembra precostituito e a cui i risultati tutti dobbiamo raggiungere il tutti non esiste ognuno ha un proprio percorso quindi l'età fragile l'età fragile ok l'età fragile ricordiamocelo benissimo basta non è per niente fragile invece tutto quello che ci racconti da settimana tant'è che lo racconti anche dove quando e come ricordacelo allora potete anzi potete approfondire perché qua noi diamo degli spunti ma possiamo approfondire attraverso l'appuntamento settimanale con Teatromania il venerdì alle 16.40 su Milanao canale 191 del digitale o su in streaming quindi da dovunque www.mediapason.it slash Milanao o il lunedì in replica su Antenna 3 canale 11 del digitale insomma poi li conosciamo anche i protagonisti giusto questi spettacoli che vengono lì che vengono con te impegniamo per portarli per farvi sentire la loro voce e per raccontare anche a volte dipende dalla situazione il processo creativo domani per esempio parleremo moltissimo di festival perché i festival riempiranno la nostra la nostra penisola ed è molto interessante io lo faccio spesso visitare un luogo partendo cioè scegliendolo in base ai festival culturali letterari o teatrali che sono sparsi per tutta Italia che insomma animano la nostra se non sbaglio c'è appena stato il fringe anche a Milano no? una cosa del genere sì c'è stato assolutamente c'è stato nelle scorse settimane e poi adesso veramente c'è Sant'Arcangelo poi c'è il Chilova Festival insomma poi c'è Spoleto insomma ci sono tantissimi festival che in questo momento stanno partendo dimmi se sbaglio Tamara la cosa divertente appunto bella del teatro è che d'inverno si va a teatro tranquillamente senza problemi c'è tutta la stagione teatrale cartellone con la roba lì ma d'estate poi esplodono le iniziative teatrali che vanno veramente ovunque tranne che in teatro vanno ovunque quasi diciamo che l'estate permette al teatro di uscire dal luogo convenzionale che è il teatro per entrare invece nel luogo palpitante quindi dentro le città dentro i territori per esempio ti dico solo che ieri è stato presentato un festival Cilentarte nel Cilento ci sono una serie di paesi che si mettono a disposizione del teatro e quindi il teatro viene rappresentato cioè spettacoli teatrali tradizionali diciamo così che sono nelle stagioni teatrali vengono rappresentati negli spazi naturali dei territori del Cilento che è un bellissimo festival di Vittorio Stasi e devo dirti che è come coniugare degli ambiti naturali con il teatro farli dialogare insieme è bellissimo quando la parola entra nella natura e quando la natura accoglie la parola perfetto bene grazie Tamara allora ci sentiamo ci vediamo possiamo dare la notizia che settimana prossima Sara posso dirlo? ok sarai qui con noi giusto? esatto sarò in carne ed ossa con la mia presenza così ingombrante arriverò mai ti dico mai abbastanza se tu dovresti ancora più cioè a noi ci piace che ci occupi lo spazio vogliamo che tu ci sia posso salutare anche le tue collaboratrici che lavorano incessantemente per poter garantire questa bellissima diretta si la troverai forse già con l'infra di tuoi piedi perché diciamo che da una settimana a questa parte già sono iniziate praticamente le vacanze col fatto che siamo verso l'ultime puntate ormai siamo un po' già con la camicia fiori e infradito sì devo dire però va bene bellissimo Tamara grazie mille allora buona settimana buon weekend buon tutto ci rivediamo appunto settimana prossima qui in diretta ci vediamo sempre a teatro e ci vediamo a teatro grazie mille ciao Tamara andiamo con la musica adesso è Rino Gaetano con Gianna Rino Gaetano con Gianna alle 7.55 minuti dopo che vi siete sentiti tutti i consigli di Tamara ma mi raccomando se non ve li siete segnati o ve li siete persi o volete riascoltarli goodmorning.milano.it c'è tutto lì volete riascoltarli e prendere dei giusti e bei interessanti spunti per andare a farvi un weekend o una settimana appunto di grande teatro e anche ovviamente di grande cultura l'atmosfera l'atmosfera l'estate che arriva arriva fra poche ore il sostizio d'estate che sarà appunto questa sera ormai appunto neanche più il 21 arriva pure in anticipo quest'anno va bene quindi non poteva che il Crystal History essere sapore di sale alle 8.08 qui su Crystal Radio FM 96.2 Dub Plus e tutte anche le altre situazioni in cui potete sentirci il web l'applicazione insomma ovunque vogliate noi ci siamo ci siamo anche sui social con qualche follower in meno di quelli che sono qui con me in studio oggi buongiorno a Amy ciao buongiorno buongiorno a Gianluca buongiorno a Francesca buongiorno a Zeta e buongiorno a Jay che siete sempre voi in realtà sono sempre noi anche qui c'è un doppiamento di personalità no non spero di no a volte a volte tanto bene bene più spesso di quanto si possa pensare mi verrebbe da dire fatevi vedere da uno bravo ma siete voi quelli bravi esatto allora Amy ma già vediamo insomma uno stettoscopio una Zeta con scritto nutrizionista giusto sotto una Jay con scritto medico insomma per quei pochi che non sanno che cos'è Amy cos'è Amy? beh Amy è un progetto nato ormai nel 2021 noi siamo un team multidisciplinare di professionisti della salute io sono Zeta come diceva Fabio nutrizionista poi c'è qui con me Jay che è medico che è da casa i nostri colleghi ci sono K sempre medico V che è assistente sociale e P che è fisioterapista quindi un bel mix ma è un rebus cioè se io metto insieme le lettere mi viene fuori qualcosa? eh questo dovete aspettare per scoprirlo non possiamo rivelarti tutto oggi però ci sarà prima o poi scopriremo perché cioè ditemi questo usciremo con la settimana enigmistica ah eh ok è una collaborazione perché unire i puntini fare il disegno qui fare il rebus perché Jane non è medico Zeta non è per nutrizionista quindi insomma chi lo sa bisogna capire bisogna capire possiamo dirvi che sono i nostri nomi d'arte però ah i vostri nomi d'arte giusto perché appunto voi siete sui social ormai da un bel po' di tempo avete iniziato fine 2021 fine 2021 ok e come è nata questa idea appunto di fare divulgazione così possiamo chiamarlo fare informazione anzi forse ancora di più a noi piace chiamarlo movimento di salute movimento di salute ok e appunto perché siamo un team multidisciplinare quindi veramente abbiamo dentro tante professioni della salute avevamo pensato appunto di fare questo progetto tutti insieme e allargare lo spazio a tutte le nostre professioni e e fare promozione della salute prevenzione sì sì ma voi vi conoscevate già prima di fare i social o vi siete conosciuti per l'occasione come è andata? sì ci conoscevamo anche prima sì siamo amici quella in me però quella in me guardando te guarda proprio se ci fossero stati gli altri avrebbe guardato anche gli altri però purtroppo ha solo me però sì ci conosciamo da ben prima di diventare professionisti lei è quella simpatica del gruppo giusto? no ognuno si prende questo appellativo quindi alla fine mi sa che siamo tutti antipatici in realtà non mi sembra per niente non mi sembra per niente ma voi date proprio dei veri e propri consigli fondamentalmente no? ma questi consigli che voi date nascono diciamo dal vostro vissuto oppure è il pubblico che ve le richiede è la gente che ve le richiede come viene questo processo? allora qua ti rispondo io che faccio la parte autoriale di questo team di scapestrati quindi written by Jay sarebbe così no? parzialmente nel senso che le idee arrivano a metà diciamo dai miei amici e colleghi ovviamente seguendo la letteratura scientifica ogni giorno arrivano spunti nuovi e poi arrivano tante domande anche nei commenti che devo dire nei nostri commenti è un bel mix ci sono commenti che ci chiedono nuovi consigli però ci sono anche tanti commenti divertenti comunque abbiamo toni abbastanza ironici infatti devo dire toni abbastanza ironici però dite cose scientifiche nel senso che non è il famoso dottor google dove io scopo di avere un brufolino vado su google scopo che in realtà sto morendo da un momento con l'altro e quindi mi alza le ansie e tutto cioè voi mi date delle vere e proprie cioè è la scienza che parla non so ogni video parte da tanti tanti articoli scientifici insomma perché infatti poi ricordiamo appunto bene nella vostra squadra abbiamo appunto un medico che sei tu un'antrizionista poi gli altri che ruoli hanno dicevamo assistente sociale un altro medico e un fisioterapista insomma un bel pool una bella equip di professionisti rimaniamo quindi a parlare ancora con Amy perché siamo stanno qua con noi questa mattina per raccontarci questa bella esperienza ma ovviamente siamo su Crystal Radio ovviamente c'è la musica e adesso c'è quella di Anna Lisa con Tsunami alle 8 e 13 minuti qui su Crystal Radio Good Morning Milano non cambiate canale eh Anna Lisa non lo so se ti amiamo ma sicuramente amiamo Amy amiamo quello che fanno tutti i giorni ci raccontano delle tantissime cose che ci danno la possibilità di vivere meglio no? com'è che era non fate divulgazione ma fate bene movimento di salute movimento di salute questo me lo devo segnare c'erano parole dentro che per me sono difficili salute prima movimento che io leggo al movimento fisico quindi devo riuscire a metterle insieme no? tanti punti consigli che date sui vostri social alcuni come diciamo nascono direttamente da voi altri nascono dalle richieste che fanno i vostri follower quindi ci sono delle richieste che vi arrivano a un certo punto no? qual è il consiglio che non avreste mai pensato di dare e che invece vi siete dovuti ritrovare a dare perché forse davate per scontato che non dava dato ma invece ce ne sono vari ok diciamo recentemente uno molto carino è stato un video che ha fatto circa 7 milioni di visualizzazioni su instagram cosa fare se ti puzzano i piedi bene quindi siamo molto preoccupati per la popolazione per i piedi della popolazione italiana perché c'è un grosso interesse evidentemente attorno all'argomento allora mi dai la prossima domanda che io mi sono sempre chiesto ma vedendo un po' appunto i reel che fate le stories che mettete i consigli che date mi sono chiesto ma noi siamo più una città cioè i milanesi ma in generale gli italiani che vi seguono sono più zozzoni ipocondriaci o semplicemente superficiali ma superficiali no no infatti ok però c'è un bel mix ah si? si dai coltivano l'arte della leggerezza più che della superficialità che è un'altra cosa viviamo sereni leggeri però proprio non bisogna siamo italiani ah la parte latina che viene fuori si l'ho capito ma appunto chi sono i vostri follower chi è che vi segue? chi ci segue ci seguono tante persone sicuramente interessate a migliorare il loro stile di vita la loro salute tendenzialmente direi che sono tante fasce di età diverse principalmente dai 18 ai 34 anni ma ci seguono ma ci seguono anche tanti diciamo più grandi e tanti più piccoli ma perché perché la salute tocca tanti aspetti della vita quindi inevitabilmente i nostri video raggiungono diverse fasce di età quindi è molto bello perché c'è una community molto varia che magari nel mondo della comunicazione non è così usuale è molto eterogeneo il vostro pubblico infatti ma perché vi amano perché vi seguono o anche invece voglio sapere anche perché non vi amano alcuni magari qual è la critica magari ci dicono non voglio essere modesta che siamo molto divertenti ok quello sottoscrivo però siamo anche molto ironici quindi l'ironia non sempre è proprio colta da tutti quindi ogni tanto qualche commento un po' negativo ci arriva ogni tanto vi concentrate un po' tanto su quella zona là sotto succede spesso vuoi capire è un problema vostro personale che avete delle fissazioni o siamo noi che ve lo chiediamo sono sempre gli italiani sono sempre loro il popolo che ce lo chiede è il popolo il popolo chiede e noi rispondiamo ok perché anche lì comunque fate un lavoro molto interessante appunto su tutto il discorso della sfera sessuale della sfera anche dell'intimo diciamo che viene fatto effettivamente su tante piattaforme anzi i medici molto probabilmente sono anni che cercano di farlo e non ci riescono voi avete trovato la chiave giusta come vi siete che risposta vi siete dati nell'avere trovato la chiave giusta che chiave utilizziamo non lo so per noi la sessualità è una cosa molto semplice forse non c'è molto da elaborare a differenza magari di altre realtà che magari iperrazionalizzano la sessualità ok però tendenzialmente siamo nati per quello anche per quello quindi sicuramente grazie a quello quello sì sono contenuti che ci vengono molto spontanei diciamo ok sì e poi sdoganiamo un posti tabù dai ma sì noi vediamo un minuto praticamente più o meno un minuto un minuto e mezzo a volte di di reel quanto lavoro c'è dietro a quel minuto e mezzo chi lavoro c'è dell'autore perché loro tutti i meriti lui si prende com'è sta storia si lasciamolo parlare su via loro mi danno tante idee però poi di fatto la creazione del contenuto quasi sempre la faccio io ci vuole un po' di tempo eh immagino questo fa anche capire comunque appunto che c'è tanto lavoro dietro che non è così una cosa che ah bene dai adesso mi prendo io mi immagino chiunque che adesso dice no se lo fa loro posso fare qui quello ci vuole e invece no cioè nel senso serve un lavoro di sintesi e creatività questa cosa qui non si studia cioè nel senso voi avete studiato medicina benissimo bravissimi benissimo siete molto i più bravi del vostro corso va bene ma quella roba lì non la studi invece come la impari è sul campo facendoli facendoli iniziamo a avere tanti video alle spalle ogni video ci insegna qualcosa sai il numero preciso l'hai tenuto il conto poi hai perso il conto 718 718 quanto sei preparato non andate a controllare ok l'ho capito io non ho capito Francesco si è visto lontano un miglio che ha detto un numero a caso giusto per invece era molto preciso so come ingannare Zeta ci conosciamo bene infatti 718 c'è la lavorazione 719 in questo momento si oggi esce il 719 andate a vederlo ecco va bene comunque voi date appunto tanti consigli ma qual è quella cosa che nonostante tutti sappiamo comunque continuiamo a farla e voi dite ma non va fatta non va fatta noi continuiamo a farla il fumo ragazzi il fumo c'è basta non si può sentire più ah il vostro è proprio una battaglia contro il fumo no non è una battaglia no infatti non ci piace però anzi siamo molto consci delle difficoltà di smettere o provare a cambiare alcuni stili di vita forse smettere di fumare è tra le cose più difficili che si possa fare perché ovviamente la nicotina crea molta dipendenza uno di quelle addiction difficili da togliere si dice quindi sicuramente non giudichiamo nessuno che fuma però da un commento ci hanno detto che abbiamo rotto talmente le scatole che hanno smesso di fumare questo è stato uno delle sì 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 la sezione commenti dei video sul fumo è molto bella sì perché le persone effettivamente raccontano le loro storie tanti dicono ma se cosa magari oggi smetto sì si supportano a vicenda anche dai smetto o anche ridurre è una strategia può essere bisogna smettere di e voi date vari consigli anche su come smettere o solo su quanto mi fa male fumare mi capisco soprattutto su come smettere ah bene quindi niente terrorismo ma un accompagnamento diciamo quanto fa male fumare pensiamo che le persone si sappiano come farlo è molto difficile è molto più difficile ok come potremmo un consiglio veloce così ce l'abbiamo da ci sono ognuno deve trovare la sua strategia ah vedi quindi non è una cosa che c'è il problema è questo non c'ho le ricette per questa cosa è più facile dire ti insegno a fare una torta ti do la ricetta della torta e l'effetto è finita come faccio smettere di fumare in questo caso o smettere magari ne so di avere altre addiction è molto più complicato perché appunto ognuno di noi bisogna trovare degli interlocutori competenti due tipi di interlocutori i tuoi conoscenti e amici per supporto diciamo emotivo day by day ma vale anche la pena confrontarsi con dei professionisti degli esperti ci sono anche dei device degli strumenti medici sanitari che si possono usare ah bene bene allora continuiamo a parlarne dopo un po' di musica adesso è il momento di Negramaro e poi torniamo qui appunto in diretta con Amy alle 8 e 25 minuti su Crystal Radio questa è Good Morning Milano e poi vi ricordo che potete ritrovare tutto quanto su goodmorning.milano.it I Coma Cose con Malavita alle 8 e 33 minuti Crystal Radio Good Morning Milano Malavita invece noi cerchiamo di fare bene vita nel senso che cerchiamo appunto di stare meglio di stare bene in forma di cercare di ammalarci il meno possibile anzi di cercare insomma di vivere questo movimento del benessere giusto Francesco? Di salute di salute non ce la farò mai non ce la faccio oggi adesso me lo segno così meno dopo non lo dico giusto siamo qui con Amy siamo qui insieme a Francesca e Gianluca che si stanno raccontando una loro esperienza molto interessante che potete ritrovare praticamente ovunque siete sui social Instagram, TikTok e Youtube Instagram, TikTok e Youtube vi trovate consigli davvero davvero interessanti che vi posso dire vi svoltano la giornata a volte se gli dici ma vedi te ma guarda te sai su quei video che quando guardi mandi all'amico subito hai visto che avevo ragione perché magari gliel'avevi detto una volta oppure ma pensate abbiamo sempre sbagliato e abbiamo sempre fatto così no? e quindi eh sì li condividono tanto è quello funziona perché quello lì è il consiglio oppure lo mandi alla mamma dicendo vedi ecco non lo facevi così e invece di tutti i generi perché appunto parlavamo di alimentazione parlavamo di benessere sessuale insomma avete toccato praticamente tutto cioè cosa è che non avete ancora toccato niente ci siamo dimenticati qualcosa no cerchiamo di coprirla a 360 gradi la salute tutto quanto no i filoni più quello del fumo mi ha capito ad esempio un filone molto seguito altri filoni molto seguiti quali sono? beh come fare la cacca ah bene allora questa è l'ora tra parentesi perché vi do questa notizia molti ci ascoltano in quell'istante cioè vi do questa notizia molti la mattina ci svegliano e ascoltano un giorno in Milano proprio in quell'istante quindi io sono molto fiero di far parte della routine mattutina anche in quell'istante loro si aiutano forse ascoltando me invece quali possono essere gli altri consigli per farla bene non so le fibre un grande classico le verdure cereali integrali movimento questo se lo scordano in tanti il movimento è molto utile ma questo viene detto movimento perché poi quello che non capiscono voi ci dite che va a fare movimento poi siamo tutti iscritti alla palestra poi c'è un altro discorso di quali iscritti alla palestra che non ci vanno ma quello è un altro capitolo va bene ma com'è che non ci viene a fare movimento cioè in realtà non dovrebbe essere automatico normale probabilmente bisogna trovare un movimento che ci piace esatto non interpretatemi male no è un movimento sportivo una palestra di movimento lento la famosa canzone movimento lento anche quello tutto sommato può aiutare però si deve piacerci trovare qualcosa di accattivante magari una forma più giocosa tennis basket ballo caraibico ballo caraibico bello con il famoso movimento della colitta con la colitta facciamo anche balli di gruppo in realtà d'estate poi chiudiamo la pagina per due mesi e andiamo Amy Summer ci si deve divertire perché sennò già quello voi lo fate sempre mi sembra cioè voi veramente ma no io non ci credo ci sarà una volta che avete detto ma no perché devo farla ci dovrebbe essere P con noi esatto questo dovremmo chiederlo a P perché c'è quello del gruppo che ogni tanto no solo una volta solo una volta no no dai racconti so che non bisogna allora P so che magari ci stai ascoltando ci stai guardando chiediamo scusa stiamo parlando senza te presente ma sono molto curioso quindi ditemi quando è stato quando c'è stato un temporale una volta non solo esterno ma anche interno diciamo forse stavamo forse dal lato autoriale avevo esagerato avevo preparato un po' troppi video da fare in in tre ore circa e quindi c'è stato un tumulto però col senno di poi è stato divertente anche quello è servito anche quello per unire il gruppo sul movimento all'inizio mi sono anche un po' indietro mi hanno fatto quella cosa che si va indietro mettere il like in un fondo per far vedere quando tu conosci una ragazza vai indietro e fai mettere il like su un post di tre anni fa per fargli capire che visto che ti seguo bene in realtà quella si spaventa dice oddio c'ho uno stalker che mi segue noi abbiamo fatto così col vostro profilo siamo andati indietro abbiamo visto che avete fatto anche tanti video all'inizio proprio dove di movimento si parlava e si parlava anche di movimento alternativo nel traffico milanese ad esempio dell'utilizzare dei mezzi piuttosto che degli altri cioè di dire andate a piedi usate la bicicletta questo è molto importante è un tema che ci sta molto a cuore quindi anche la salute ambientale voi siete di Milano siete cresciuti in Milano adesso so che poi state prendendo strade gravitiamo su Milano intorno a Milano sì sì se dovessimo paragonare il traffico di Milano a una malattia o un virus quale potrebbe essere? ma palese su due piedi mi viene da dire forse l'analogia più calzante potrebbe essere una terosclerosi visto che siamo sempre sì non so se diciamo cos'è magari spieghiamola bene infatti la terosclerosi molto simpaticamente è un'ostruzione delle arterie ok quindi se vogliamo vedere le vie di Milano come delle arterie più macchine ci sono ci sta ci sta più queste si impacchettano c'è Piazza Napoli è un'ostruzione pazzesca lì ci vuole altro che bypass sì possiamo facciamo che le magari le macchine le facciamo diventare le cellule che dovrebbero andare da qualche parte però poi ai lati ci sono i lavori le macchine parcheggiate il sugo è del papi voi siete simpatici simpatici ma siete anche bastardelli non risparmete nessuno beh non ci risparmiamo neanche noi stessi ok dillo dillo cosa mi guardi così dillo Gianluca no mi taccio no Gianluca non puoi prossima volta per chi stava guardando in video mi assicuro che la faccia diceva tutto quindi ritrova ancora continua Francesco io avevo paura ma tu tutto opposto sei sicura di continuare questa esperienza qua c'è un porto sicuro se vuoi grazie vi ringrazio diamo asilo politico qua senza problemi tutte le motivazioni le stiamo vedendo quindi non ci mancherebbe diciamo appunto che appunto guardate intorno a Milano Milano è una grande città Milano ha avvisato dei consigli appunto dicevi è importante anche il benessere ambientale ma in una città come Milano non è facile beh ma vale la pena provarci quindi comunque spingere a prendere i mezzi pubblici spingere ad usare la bicicletta ci sono tante alternative non essere bloccati nel traffico poi sembra folle forse la città perfetta per provare a fare degli esperimenti perché perché questo è interessante dimmi pure per la sua diciamo geografia è è molto piatta Milano e non è così grande come come pensiamo rispetto ad altre città eh sì o sclerosi diciamo più o meno se invece dovessimo paragonare dei luoghi di Milano a degli organi del nostro corpo ad esempio parco Sempione cosa potrebbe essere? banale un polmoncino eh sì dai piccolino un polmoncino ho iniziato a posto con questo perché sapevo che sarei stato sul polmono ed era facile City Life City Life quasi è più difficile City Life cos'è? l'occhio l'occhio? ah l'occhio? tipo Sauron ah tipo l'occhio l'occhio dei signori di anelli poi vi preoccupate di me? mi dice sempre che sono la più cattiva quindi qui c'è Sauron che capiamo benissimo essere una coppia che adesso non c'è più che guarda la città di Milano più o meno quella l'idea era quella no ah no no l'ho interpretato male io no assolutamente no 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 era più l'occhio del cash penso che dicesse sì 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 intendevo quello quello che decide dove allocare le risorse ah vedi no non ci permetteremo mai le grande master of puppets diciamo ok esatto il duomo? il cuore il cuore il cuore ah vedi vedi via Bernabò Visconti c'è la nostra via cosa potrebbe essere invece? un piccolo cieco no l'appendicite esatto mi hai letto un altro siero Elisa vai fuori a cambiare il cartello sotto Bernabò Visconti che tra per te sia un mezzo criminale della famiglia Visconti che vai mettiamo sotto appendicite proprio neanche appendicite la malattia siamo già in peritonite metti sotto capito sei preparatissimo sì perché in un momento così da bambino sono stato ricoverato per un appendicite in peritonite quando poi hanno scoperto che non era niente è vero quindi sono rimasto una settimana all'ospedale per niente e è stata una delle esperienze più belle della mia vita perché c'era il fortino del Playboy del Playboy scusate che ospedale sei stato piccolo lapsus piccolo lapsus voglio dire il Playmobil e io volevo portarmola a casa anni dopo forse mi sono portata a casa al Playboy ecco perché avevo sbagliato forse per quella forse per quella ma no e quindi insomma sì mi scrivono mi scrivono che consigli sulla dissenteria mi chiedono via Whatsapp appunto ma credo che li abbiamo già mi sa che ne trovano quella è meglio prevenirla e li trovano tra l'altro se scorrete tra i nostri video c'è sicuro qualcosa infatti perché appunto il 33178 53 555 ci hanno proprio chiesto appunto un consiglio non lo vuoi capire è così perdete liquidi ecco quello di dissenteria quindi bisogna bere tanto tanto e quindi quando prima diciamo i consigli sul come fare la cacca anche come evitare di farne troppa la giusta misura la giusta misura andiamo ancora con un po' di musica e poi torniamo per salutarci perché siamo quasi in conclusione adesso è il momento degli Abacon SOS appunto diciamo che insomma voi siete il nostro SOS quotidiano nel caso appunto ci siano un po' di dubbi 718 vite vi hanno detto più o meno quindi insomma libero di trovare tutti i consigli sui profili social di Amy e gli Abacon SOS alle 8.46 minuti siamo quasi in chiusura prima di salutarci però appunto volevo capire un po' con Amy con Francesca e Gianluca quali sono anche i prossimi passi next step se fossero dei cantanti vi direi il prossimo album quando è in cantiere esce a ottobre canta Z tu canti sotto la doccia la doccia non ce l'abbiamo facci sentire no 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 non ti chiedo di cantare non ti voglio mettere in imbarazzo uno dei prossimi reel però dici qual è la canzone al momento che canta Z sotto la doccia cioè qual è la hit il tuo cavallo dopo che abbiamo fatto un reel è sesso e samba sesso e samba come sesso e samba io faccio l'altro com'è che si chiama Tony però sono una rocchettare diciamolo quindi siamo più sugli CDC e quelle robe lì assolutamente anche io abbastanza si ma è scena la doccia che sei più sudato di quando ci entri però ne vale la pena benissimo dicevamo però appunto next step i prossimi passi cosa bolla in pentola cosa bolla nei social è da settembre se ce la facciamo settembre ottobre non trattenete il respiro potremmo vederne delle belle stiamo cercando uno spazio nuovo uno spazio nuovo bene bene non voglio non voglio indagare oltre non voglio sapere oltre poi tornerete qua a raccontarci di questo spazio volentieri vi aspettiamo quando ci raccontrete di questo spazio dateci però prima di salutarci tutte le coordinate per quelle che appunto ci hanno seguito questa mattina qui su Good Money Milano per seguire invece Amy per godervi godere al meglio del vostro lavoro seguite Amy su Instagram Youtube e TikTok scrivendo Amy con l'H H E I M I punto salute e prevenzione ok voi uscite praticamente tutti i giorni quante volte a settimana tutti i giorni no immagino cinque video a settimana più o meno poi dipende un po' cinque video a settimana ragazzi ma che fatica vi posso dirvelo ci divertiamo esatto per dire la stessa cosa infatti la domanda che vi lascio che io rubo sempre la mia collega nei versetti di maccherazza di umani vi chiedo ma chi ve lo fa fare? eh chi ce lo fa fare? ci divertiamo dai ce lo facciamo fare a vicenda e c'è una missione sotto che ancora non svegliamo che ancora non possiamo dire ah quindi c'è c'è una missione diciamo segreta al momento una mission un grande disegno un grande disegno che prima o poi magari unendo le lettere riusciremo a capire chi lo sa visto che ho fatto bravo sono giornalista si vede si vede grazie mille Francesca grazie mille Gianluca salutiamo anche gli altri lascio il saluto agli altri che sono a casa gli altri lettere dell'alfabeto Amy salutali tu Francesca ciao a tutti ragazzi a presto ciao sono cattivi anche tra di loro è pazzesca questa cosa è pazzesca mi piacciono e li voglio bene per questo mi piace perché siete cattivi no 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 i pensi sono divertenti ma soprattutto ricordiamo la cosa interessante è che sono utili è questa la cosa bella cioè questi benedetti social che tanto distrattiamo che tanto raccontiamo essere pieni di cose inutili ed è vero perché dei gattini non ne posso più o di trenini io vedo i trenini ad esempio pensate voi come sto messo ma in realtà poi in tutto questo c'è tanta tanta altra roba molto molto interessante e utile come ad esempio in questo caso Amy quindi grazie davvero entrambi e un saluto anche grazie a te grazie dell'invito grazie grazie mille andiamo avanti con la musica adesso è il momento di Madonna con Hang Up 8 e 56 minuti di oggi giovedì 20 giugno siamo arrivati alla fine di questa puntata di Good Morning Milano e insomma che puntata oggi con Amy forse ho anche capito il motivo perché la mattina ho sempre un po' di raspino in gola mi hanno parlato di reflusso non vorrei che abbiano ragione loro insomma due medici contro uno giornalista mi sa che vince sempre il medico dopo di noi Ambrogio Curti con Senti Questa alle 9.05 dopo il giornale radio la grande musica raccontata dal bravissimo Ambrogio Curti e se volete ritrovare tutto quello che abbiamo fatto oggi qui in trasmissione lo potete fare sul nostro sito goodmorning.milano.it come sempre dice tutto trovate ad esempio il teatro di Gran Tamara Malleo l'abitudine del teatro che abbiamo raccontato questa mattina e anche ad esempio tutta l'intervista ai ragazzi e alle ragazze di Amy che questa mattina i dottori medici che sono venuti questa mattina qui a raccontarci di questa interessante iniziativa sui social al punto che è Amy e allora grazie mille a tutti per averci seguito noi ci risentiamo domani dalle 7 alle 9 e siamo pronti anche oggi qui perché siamo pronti a tutta la musica che arriveranno per i concerti Vasco Rossi ieri sera ha infiammato San Siro siamo pronti ancora per tutta l'estate grazie mille a tutti a domani dalle 7 alle 9 qui su Cristal Radio good morning Milano ciao a domani ciao a domani Grazie a tutti.